Il pianeta umano, come abbiamo creato l'antropocene, edito da Inaudi, nasce dalla collaborazione di Simon Lewis e Mark Maslin e può essere considerato un'opera di divulgazione scientifica. L'argomento è alquanto esteso, ma ruota intorno a un unico fulcro tematico, la storia della Terra e dei cambiamenti che vi hanno avuto luogo nel corso dei millenni in relazione all'attività umana. Lo scopo principale del libro è quello di presentare gli argomenti necessari a dimostrare la validità della definizione di una nuova epoca geologica, l'antropocene. Inoltre, l'intento degli autori è quello di accompagnare il lettore lungo un percorso evolutivo procedendo in ordine cronologico, dalla discesa dagli alberi dei primi ominidi all'analisi dei meccanismi che governano la società odierna e della loro influenza sul pianeta. Grazie a un'attenta lettura, accompagnata da grafici esaustivi e da una significativa quantità di dati, non si può fare altro che dichiararsi d'accordo circa l'estensione dell'impatto umano sull'ambiente. L'uomo è senza dubbio una forza della natura e lo dimostrano diversi fenomeni ampiamente descritti, come la scomparsa della megafauna, gli effetti ambientali dell'agricoltura, l'orbi spike o scambio colombiano, gli esiti della globalizzazione sull'ecosistema e molti altri. Oltre all'analisi approfondita in merito alla crescente rapidità dei cambiamenti ambientali dovuti all'attività umana si riflette sulle transizioni sociali che subì l'umanità dei secoli. Si discute circa la possibile data di inizio dell'antropocene, il cosiddetto chiodo d'oro, in base all'esame dei sedimenti rocciosi e si ipotizzano alcuni possibili scenari futuri. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi decenni? La nostra società consumistica e capitalistica rimarrà tale o assisteremo a un cambiamento del nostro modo di vivere, oppure addirittura un crollo della nostra civiltà. Ciò che questo libro offre è un panorama completo sulla storia dell'umanità.